Abbiamo presentato un progetto di legge che riguarda la pulizia degli alvi dei fiumi perché la legislazione attuale e la burocrazia bloccano praticamente qualsiasi intervento sugli alvi dei fiumi e siccome noi pensiamo che una delle cause maggiori rispetto alle calamità, cioè agli stati di alluvione emergenziali che ci sono stati nei vari territori è proprio la mancanza della pulizia degli alvi dei fiumi abbiamo presentato questo progetto di legge che dà la possibilità alle regioni di intervenire immediatamente e soprattutto è un progetto di legge a costo zero. È insensato che si continuino a autorizzare le aperture di cave nei vari territori quando si potrebbe tranquillamente prelevare la salvia dagli alvi dei fiumi riportando per qui l'alveo ad un livello naturale e diminuendo la pericolosità delle piene dei torrenti e dei fiumi. Noi pensiamo che questa proposta sia una proposta da discutere subito, da una discussione urgente da fare che sia una proposta interessante e che soprattutto chiediamo al Partito Democratico di superare quel fondamentalismo ambientale che ha bloccato qualsiasi intervento e che sta causando i danni che oggi tutti noi vediamo.